ciao a tutti appassionati anime manga sono alice come sempre video seguimi qui su youtube su instagram su twitch e anche il mio bottega per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre trovate qui sotto in descrizione oggi andrò a fare la recensione di eroi manga edito aperto manga prezzo 12 euro e 90 manga volume unico autore igno asano è un atipico disturbante fantasy facendo un po ha dei colori particolari abbiamo diversi personaggi e sopra appunto qua in copertina tra cui yume chan coniglietto principessa puttanella saimbatsu coccodrillino il re delle mosche panda reggiseno fugato yamamoto allucinante eccetera 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 tanti personaggi questi sono degli eroi dovrebbero essere eroi li vediamo li troviamo nella foresta maledetta così la chiamano dopo aver sconfitto l'ombra quello che loro chiamano l'ombra gorgon il grande chierico malvagio e hanno sconfitto questa oscurità questa entità malvagia e stanno tornando a casa nel loro nel loro regno ma ma non è così semplice cioè l'ombra o meglio l'oscurità è dentro di loro cioè tutto ciò che hanno subito nei passati sobrusi viene fuori hanno tenuto dentro di loro tutta questa rabbia represso in qualche modo e subito all'inizio uno di loro muore questa specie di ombra si libera si libera il corpo crea una specie di bomba onda d'urto che chiunque vicino può morire e essere anche influenzato lui spira chi ha veduto questa ombra spira in pace e serenità e però deve essere sigillato con una pala praticamente nella terra per non far sì che l'oscurità residua vada intacchi altre persone particolare conosceremo subito il re delle mosche che ha perso le sue ali di cui andava tanto fio tanto orgoglioso per salvare gli altri eroi per poter distruggere però appunto gorgon ma nessuno sembra apprezzarlo questo questo anzi è mal sopportato meglio tutti si mal sopportano tutti questi eroi tra virgolette spesso praticano bullismo tra di loro ognuno dice difetti dell'altro quindi litigano parecchio e quindi ovviamente è l'ombra dentro di loro che uscirà fuori piano piano verranno decimati piano piano resterà sempre 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 di meno in questo mondo nonostante è stato sconfitto quello che dovrebbe essere il male dell'entità maligna tendono tutti a dividere ancora tra amici e nemici le persone continuano ad odiarsi quindi non c'è mai fine al male o forse meglio dire che una persona o non è solo buona o solo cattiva tutti dentro di sé hanno una parte buona ma anche una parte cattiva non c'è nero non c'è bianco tutti possono essere la persona più buona del mondo ma allo stesso tempo anche quella più cattiva e a seconda anche di come si viene trattati dagli altri cioè noi siamo lo specchio di come veniamo trattati in fondo e quindi l'autore comunque fa vedere molto bene questa cosa che non tutti nessuno è felice in fondo davvero si sforzano a essere felici si sforzano a sopportarsi ho già accennato ognuno vede i difetti dell'altro puntano sempre il dito è proprio una metafora dell'umanità che non è mai abbastanza cioè l'altra persona non è mai abbastanza cercherai sempre di trovare un difetto negli altri e quindi questo mondo ti porterà spesso a avere conflitti con le persone a sopportare parecchio soprattutto per un giapponese che non devi esternare il tuo malessere interiore ma devi tenerlo dentro di te e magari alla lunga come prima o poi esplodi tra virgolette ovviamente noi non esplodiamo davvero e quindi è molto interessante un manga veloce carino ha pagine a colori, è un volume unico quindi se magari non conoscete Gnoasano può essere un'idea per conoscere meglio questo autore anche se non è tipicamente di Gnoasano questo manga cioè non ci vedi molto il classico Gnoasano che vede in tutte le sue opere che è molto terra terra, molto vicino alla cultura e alla popolazione giapponese qua è molto più fantasy, fantasioso è molto particolare come manga, è un manga davvero molto ma molto particolare fa vedere le cose alla fine più brutte del genere umano e non c'è per nulla un lieto fine in questo manga anche se forse ci può lasciare un barlume di speranza anzi ci lo lascia un barlume di speranza a fondo ma ecco la speranza dipende da noi, da noi persone e non è qualcosa che capita dal nulla cioè sta a noi decidere come essere e come crescere che tipo di persone, che tipo di adulti vogliamo diventare è un manga carino ecco, non è uno di quelli che dico oddio, prendetelo a tutti i costi però è un manga buono, carino, è un volume unico se non sapete cosa leggere ci può stare tranquillamente io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like noi ci vediamo ai prossimi video grazie